Sì, grazie Presidente. Intanto ringrazio la consigliera Mussolini per aver presentato questo atto. Mi scuso innanzitutto per l'assenza di voce, ma purtroppo ho un problema, un mal di gola, insomma non riesco a parlare bene. Di fatto è una mozione di indirizzo molto chiara, anche nel contenuto molto semplice, che richiede di fatto di riaggiornare la convenzione tra AMA e chiaramente poi l'organo proposto per riattivare un servizio, quello della Polizia Locale, del gruppo PIX, che si è sempre occupato di intervenire sulle azioni di degrado e anche su piccoli mercatini abusivi o comunque situazioni illecite all'interno del territorio romano. Perciò un servizio importante per prevenire tutte quelle questioni anche legate a un cattivo comportamento legato sempre al decoro e legato anche al rispetto della nostra città. Perciò un deterrente importante, un gruppo importante che si è sempre riconosciuto e distinto appunto sulla salvaguardia del decoro, dell'ambiente e di tutto ciò che ci circonda in questa città. Perciò l'operazione che deve essere fatta, un'operazione molto semplice, è quella di rinnovo della convenzione scaduta purtroppo nel 2015 tra il Dipartimento Ambiente e la Polizia Locale, semplicemente un rinnovo che deve essere fatto all'interno di uffici competenti, perciò si pensa alla Polizia Locale che è l'organo chiaramente deputato a questo tipo di attività. Comunque convocheremo a breve una commissione richiesta anche dal consigliere Bordoni, ma sollecitata, perché ricordiamolo questo è un tema che è stato sollevato comunque dalla consigliera Mussolini e anche dal consigliere Di Epriamo, perciò a breve ci sarà una commissione con tutti gli attori competenti per poter arrivare poi a una conclusione e per poter poi chiaramente arrivare a una nuova convenzione. Grazie Presidente, grazie Consigliera.